Analisi del voto fatta nel pomeriggio all'Aquila dal Partito Democratico, tanti temi trattati in conferenza stampa, anzitutto è stata ammessa senza giustificazioni la sconfitta, si è già parlato anche di elezioni regionali da provare a vincere nel 2024 e quanto rammarico per l'alleanza non fatta in questa campagna elettorale con il Movimento 5 Stelle. Ne parliamo con il neoletto senatore Michele Fina, grazie per essere con noi, ho riassunto bene un po' i temi del pensiero. Sì che poi sono un unico tema alla fine, bisogna costruire un'alleanza per evitare che alle elezioni regionali ci sia un'altra sconfitta e invece aprire quello che noi percepiamo, c'è un varco per un'alternativa al governo Marsilio che molti si aspettano e quindi far tesoro di quello che abbiamo fatto in questi 40 giorni di campagna elettorale ma anche di quello che non abbiamo potuto fare, perché la mancanza di un'alleanza ha reso questa nostra battaglia più difficile, ripartire da qui, ricostruire, insistere perché il Partito Democratico sia un partito coalizionale e perché ci possa essere una coalizione di qui a breve per il nostro territorio. Eletto senatore, qual è la priorità adesso a Roma? Essere al fianco dell'Abruzzo, essere un rappresentante del territorio, essere un parlamentare di territorio perché dopo una lunga esperienza di collaborazione col governo nazionale e la decisione di tornare a vivere nella mia terra so che il parlamentare può tranquillamente perdersi in quelle stanze e invece deve mantenere concentrata la sua attività, la sua azione sui temi per i quali si è speso in campagna elettorale e devono essere impegni, non vuote promesse. Allora, tutte le priorità che riguardano la nostra regione, gli investimenti infrastrutturali, la spesa del PNRR, una verifica sulla sanità intesa in rapporto col sistema sanitario nazionale, la vicenda dei tribunali, il sostegno all'attività dell'agricoltura, la spinta alla nostra capacità, al turismo della nostra regione che ha mostrato la capacità di competere a livello nazionale, il sostegno alle aree interne. Queste e tutte le altre tematiche che abbiamo messo in ordine saranno il mio impegno da oggi. Le chiedo un'ultima cosa, da oggi proprio, da come ho capito in conferenza stampa, è ufficialmente iniziata la campagna elettorale per le regionali 2024? È già iniziata con la campagna elettorale delle politiche, per noi è stato l'inizio di un percorso che durerà 15 mesi. Grande quanto il rammarico per non aver detto che è l'alleanza con il Movimento 5 Stelle, mi risponda secco. Grandissimo. Grandissimo.